Sono molto felice che stasera al Festival d'Otunno prenda il via la tournée europea di Machine des Cirques, questo gruppo appunto che arriva da Montreal, che ha cambiato il modo di concepire il teatro portando il circo dentro il teatro. Quindi stasera assisteremo per la prima volta in Calabria, in unica data, quindi in esclusiva per il Festival d'Otunno, a questo spettacolo assolutamente travolgente, coinvolgente, pieno di acropazie, di effetti speciali, di musica, di teatro e di danza. E in particolare sono molto felice che ci siano così tanti ragazzi e giovani a teatro, perché una delle finalità del Festival, in particolare quest'anno, era proprio questa, quella di far sì che il teatro fosse appetibile anche per chi di solito non ci viene. Quindi penso che questo obiettivo sia pienamente stato raggiunto, è una gioia vedere così tanti giovani a teatro, assistere a uno spettacolo così innovativo, perché è importante sapersi rinnovare. Quindi accanto alle produzioni blasonate altamente culturali, ho ritenuto giusto quest'anno inserire anche dei momenti di teatro diverso, quindi che includessero la comicità, piuttosto che l'arte circense, piuttosto che la grande musica, le grandi produzioni alle quali il Festival è mai abituato. Grazie.